ciao a tutti i serafiniani breve video che mi ha chiesto paolo appunto breve video con step io trado a livello intraday con i volumi sono le 9 0 3 devo andare via oltretutto guadagno del giorno 5 9 si va quasi 6.000 va bene e si va a target qui sul nasdaq a 7 6 5 3 e il dax oggi lo monto in un trade solo perché lo mungo tutti i giorni ma oggi dava fastidio era particolarmente scorbutico più di me allora mi piglio chi ci tiene al guinzaglio cioè gli americani e andiamo a target tranquillamente insieme mi proteggo un pochettino metto qua sotto vediamo se andiamo in diretta target mi raccomando per l'intraday volumi gli altri fufa come li chiamo a serafini fufa trader li io li chiamo i pagliacci sono in rete non hanno il naso rosso non li riuscite a distinguere ma con l'esperienza vedrete che riuscirete anche a distinguere i pagliacci comunque chiedete chiedete sempre ai fufa il di farvi vedere almeno come operano niente di che mi fai vedere un attimo come operi mi fai vedere se ti dice di no mi dici fufa fufa dai che andiamo a target che devo andare via dai sto colpo di reni avevamo detto che non mi ricordo a 7 6 5 3 6 7 6 5 3 ok baby guadagno del giorno dai che facciamo un 6.000 tondo e d'altronde 9 0 5 la vola è quella che è me li vuoi dare sti 6.000 o no vendita limite eseguita uscita col profitto ciao raga